Non so se un po' di stanchezza fisica o forse anche la voglia comunque di portarci in avanti e cercare il risultato che ci ha portato un po' a sbilanciarsi e poi al minimo errore è venuta fuori l'esperienza comunque del Chievo e ci hanno punito. Michele, qualche tifoso si chiede cosa è successo questa sera al Pescara perché non si è vista la solita squadra? Secondo me comunque abbiamo fatto la nostra partita, cercavamo di fare il nostro gioco perché è una partita in casa dove volevamo fare molto bene però come ho detto siamo calati come dite voi un po' negli ultimi minuti finali, siamo slegati come squadra e purtroppo ci hanno punito. Michele, questa prima vittoria che tarda ad arrivare è un peso a livello psicologico per voi oppure no? Forse lo è un po' per tutti però come ho detto prima dobbiamo rimanere squadra, dobbiamo rimanere uniti perché in momenti di difficoltà ci sono stati anche gli anni scorsi in Serie B figuriamoci se non ci possono essere in Serie A però rimanendo uniti, rimanendo squadra ne verremo fuori.